Il concilio Vaticano II è il punto di inizio di una crisi, paradossalmente, no? Allora, nella storia succede quando le idee vincono, gli equilibri entrano in crisi, gli equilibri che si sono prima realizzati spesso entrano in crisi. In che senso? Vediamo di spiegare questo, può sembrare un paradosso. Dicevo della difficoltà dei cattolici, dello stesso De Gasperi. Quando io ho studiato nel lontano 77, quando feci il primo libro su De Gasperi, ho studiato la formazione del suo pensiero, lavorando sulle sue carte, sui suoi appunti, ho visto con quanta difficoltà De Gasperi si muoveva di fronte al problema della libertà, come fondare la libertà. E dicevo di questo richiamo che ancora allora De Gasperi era costretto a fare, alla vecchia concezione che era stata elaborata dai francesi, da un vescovo francese, il Dupin-Loup, vescovo di Orléans, dopo il sillabo, la distinzione fra la tesi e l'ipotesi. Dice, in tesi, ossia sul piano dei principi, solo la verità ha diritto ad essere riconosciuta dallo Stato, in ipotesi, ossia sul piano storico concreto, vale il principio della tolleranza. Più in là di questo non si riusciva ad andare. Ecco, che cosa fa? Il concilio supera questo limite, fa saltare in aria questa distinzione che si è ripetuta per decenni, e nella dignitatis umana, è l'ultimo dei documenti conciliari, non a caso approvato proprio alla vigilia della chiusura nel dicembre del 65, mi pare che fu proprio l'ultimo documento approvato, grazie alla tenace volontà di Paolo VI, e la dignitatis umana, viceversa, fonda la libertà sul principio della incompetenza dello Stato in materia di religione e di verità. Lo Stato non è competente a definire la verità. La dignitatis umana non nega la responsabilità dell'uomo singolo, della sua coscienza, di fronte alla verità, ma nega che lo Stato sia competente a entrare in questo processo. Mi spiego. Quindi c'è l'accettazione, se vogliamo, della concezione americana. E' noto che nella Costituzione americana il principio di libertà è fondato nel primo emendamento, approvato quattro anni dopo la Costituzione americana, e il primo articolo del primo emendamento vieta al Congresso di legiferare in materia religiosa. Lo Stato non può entrare in materia religiosa. La materia religiosa non appartiene allo Stato. Ecco, questa idea è passata nel documento conciliare, grazie all'opera di un gesuita americano, John Carton e Murray, che Paolo VI, il pontefice Paolo VI, un grande padre, volle come consulente proprio perché capì che quella era la direzione in cui bisognava andare. E oggi, nel mondo cattolico, questa è la concezione della libertà e quindi il fondamento della laicità dello Stato. Laicità dello Stato non significa l'indifferenza dello Stato al fattore religioso. Tantomeno la laicità dello Stato significa che lo Stato sia portatore esso stesso di una sua concezione ideologica, compiuta, la concezione laica, così come voleva la tradizione francese, la tradizione russoiana, legata a Jean-Jacques Rousseau. No, la laicità dello Stato oggi viene concepita anche dalla nostra Corte Costituzionale, in famose sentenze che sono state formulate, viene concepita come interesse dello Stato alla libera espressione del fattore religioso in condizioni di pluralismo, in condizioni di libertà, senza che lo Stato prenda posizione rispetto a questa dinamica libera, che è la libera espressione della società civile. Questa è la nuova concezione della laicità che abbiamo elaborato anche nel nostro Paese sulla base dell'apporto del pensiero cattolico da un lato e dall'altro sulla base di una riflessione culturale che si è rifatta al grande filone del liberalismo anglosassone. Perché invece prima il liberalismo italiano era piuttosto dipendente dalla cultura francese, dal liberalismo francese, la scoperta del liberalismo anglosassone è posteriore ed è molto significativa. Quando gli americani approvarono la loro Costituzione discusse a lungo se si doveva metterci la cosiddetta prima parte, quella che nella nostra Costituzione è la prima parte, ossia diritti e doveri del cittadino. E prevalza la tesi che non si dovessero formalizzare questi principi, perché erano talmente innati, talmente radicati nella mentalità, nella cultura del popolo, degli americani, che formularli li avrebbe impoveriti. Poi viceversa prevalza la soluzione più prudente di garantire alcuni principi fondamentali, fissare alcuni confini. E fra questi fu stabilito appunto nel primo emendamento, fu stabilita l'incompetenza dello Stato in materia religiosa proprio ad evitare che ci potesse essere forme di intervento. E questo fa sì che in Italia, sì in Italia, che in America, la religione è presente, è attiva. I presidenti americani invocano Dio nel momento della loro elezione. Non c'è come da noi questa specie di reticenza nei confronti del fattore religioso. Ma c'è in forme che non privilegiano nessuna confessione religiosa, in forme estremamente libere, estremamente laiche per certi aspetti.